Un colpo alla testa, la mia, e la nebbia è svanita. Si chiama Lennox, lavora per Sentinel. Pensano di essere i buoni. Bastardo! Hai ucciso Oz! È così che lo chiamate? È la fonte dell'infezione. Un proiettile non lo fermerà. Ma che cazzo stai dicendo? Oz è morto! Lo eri anche tu. È tu. È tu. Mi dice niente? Non siamo zombie. Atlas in arrivo, 5 miglia di distanze. Sono in anticipo. Muoviamoci! Ci fidavamo di te! Muoversi! Vivi o morti, eravamo preziosi per Atlas. Lennox sapeva che non ci avrebbero lasciati andare. Nessuno immaginava che uno di noi aveva deciso di fare di testa sua. L'escomah. 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 Nessuna immaginava. Grazie.